Consumo di alcoli in crescita tra giovani e giovanissimi, così arriva un progetto per sostenere il bere responsabile. Sentiamo Alessandro Trevisani. Cresce mediamente in Italia il consumo di alcolici. Tra gli 11 e i 17 anni, 9 ragazzi su 100 ne bevono ogni giorno. Nella stessa fascia d'età, 8 ragazze su 100 hanno questa abitudine. Ma è la mala movida il fenomeno che Confcommercio si propone di combattere sul piano culturale, con la sua guida al servizio per un consumo consapevole di bevande alcoliche. Diciamo che uno diventa vandalo dopo che forse ha bevuto qualcosa di troppo. È lì che abbiamo lavorato, è lì che abbiamo lavorato nei confronti dei nostri impenditori per non dare più quell'ulteriore spinta a farli diventare vandalo. Noi li consideriamo vandali, li consideriamo dei giovani che hanno bisogno di una certa attenzione. Nelle marche va forte il consumo di vino fra i maggiori di 11 anni. Più debole il consumo di birra a seguire aperitivi e superalcolici. In Italia cresce di circa il 6% il binge drinking, ovvero il consumo massiccio di alcolici tra gli uomini e di bene il 12% fra le donne. Cresce in modo sensibile anche il numero di consumatori a rischio ed erano 267 i pazienti in trattamento farmaceutico per la dipendenza alcolica nelle marche nel 2020. Circostanze che a volte costringono le autorità ad adottare provvedimenti repressivi. L'attività di controllo e vigilanza del territorio è portata all'adozione di numerosi da CUR, da ASPO urbani che hanno consentito di contenere e limitare i fenomeni più dannosi ma soprattutto di individuare le frange più estreme.